Benvenuti finalmente qua per giocare la storia di Mortal Kombat 1 Continuiamo con Kenshi Esatto, eravamo arrivati al quarto capitolo con Kenshi Andiamo Esatto, piccolo sorpresino Eh, piccola sorpresina Rain È il primo vero personaggio che ho approfondito Sul serio aereo Perché ho tocchignato Shang Tsung Devo dire che non mi stanno facendo impazzire Johnny Cage dopo la storia l'ho riprovato Mi sembra anche film troppo facile Come personaggio Volevo qualcosa di più interessante E devo dire che lei mi piace Quindi volevo graziarmi con Per esempio Super fun Oh no Irruinaria Stiker Sta fogando Deve stare ca... Oh se vince Ecco Qua è stato di storm Nooo Quasi Ho sbagliato dove mandare Scorpio in realtà Addio Oh salve il portale Mi servirai ora Addio Adoro sta cosa No Giù, 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 destra, B Allora questo Il suolo della finish E questa, l'ho già vista Diventa tipo Dark Mosè Grazie mille Rain È simpatico È simpatico E niente Andiamo da Kenshi Che invece non ho mai provato Ho tocchegnato Rain Perché ho detto Secondo me non giochiamo in moda della storia Quindi Voglio tenermi freschi i personaggi Ne ho mai dato la storia Per poter riprovare Proprio una volta con voi E nella storia Perché mi sembra anche giusto Perché se ne sono buttato su Rain Eccoci finalmente qua Dobbiamo giocare Kenshi L'ultima volta New Keg Ha saputo Che c'era qualcosa Che non andava Sapete com'è Che cosa ha mostrato Che cos'è Che cose Quando ti hai riusciti la storia Ci hai alterato Le destinazioni Di certi Quali Per neutralizzarli Price Programmi Deve Il Il Deve Tsung Per Venite Ha Ho Lo Lo Che Si Sì, ok, però comunque, his meaningless life, signor Liu Kang. È quella di un truffatore che ha portato anche alla morte di bambini innocenti. Liu Kang poteva fare qualcosa di meglio. So we find him in Outworld and bring him here for questioning? Yes. If what I fear has happened, he is a grave threat to the realms. Anything else? Shang Tsung is a master of deceit. Do not trust a word he utters. Sounds a lot like my first agents. It's a tricky mission. I'd rather Raiden go along than this one. Hey, this one is up for the job. Ah, this mission must be done quietly. I am breaking my word with Empress Sindel by sending you into Outworld without her knowledge. Due to the tournament, Raiden is now a familiar face there. Sending him will only increase your risk of being discovered. This talisman is attuned to Shang Tsung's Qi. Follow it to him. C'è una la bussola che porta a Shang Tsung. Sì, se c'è una persona che può poter creare la bussola è Liu Kang. Oh, are we there yet? Again? How old are you? Five? What can I say? These boots weren't made for walking. If that is the most pain you feel today, consider yourself lucky. Oh, I'm already lucky. I've got Cento strapped to my back. I will reclaim it, Cage. Got 3 million? It's yours. You know I don't have it. I bet you Yakuza pals could come up with it. Oh, that's right. You blew them off. Ah, if there's one lesson Hollywood's taught me it's never burn bridges. You never know who can help. The Yakuza are leeches. Bleeding out those too weak to resist. I grew up in that life, and I never understood it. Why my gain required others pain? I got out. I need my clan out too. We can't be part of their crimes any longer. Non parleranno mai di come lui abbia ottenuto quel vestito e di perché si è vestito in quel modo, vero? Ok, per proteggerlo meglio, I guess. Oh! Non ci vamo. What's your precious say? That Changsung is among those... Things. Oh, my fans are gonna go nuts cosplaying them a Cage-Gon. Eccolo. Oh, my gosh. Oh, my God. Yeah. Noi ci stiamo pensando... Non abbiamo bisogno di strategia sui film, Cage. No... Devo andare! Non puoi fare questo! La scuola sarà risposta in tempo. È un'acquita piccola per pagare per il progetto. Oh, boy! Segui senza pollo Che cosa che Non mi devo preparare per vedere le persone sospendate Eccolo Sarà che deve essere il primo che devo combattere Oddio, oddio, lui era il trailer Era Shesun che non lo stava parlando Io non so niente di Ken, c'è la prima volta che lo muovo, giuro Però lo sblocco Cos'è sta musica? Ho paura, ho paura Ma sostanzialmente è come se lui avesse l'assenso stance attiva adesso Ma senza il fantasma Giusto Ah giusto ho messo l'announcer Johnny Cage Il proposito di Johnny Cage Oh benissimo Oh double Sto provando a chiamare Johnny Cage ma No Oh boy Ok Ok Scusate ok Devo, cioè devo combattere il braccio Non è vero che ho giocato prima con Rain Ma Rain lo conosco Allora Guarda becchi venire Guardato 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 Ok Vai all'angolo ragazzi Guarda Ma dai Cos'è? Non gli funziona una squadra Wow ok Sto a prendermi Senti bisogna uscire all'angolo Ok Ok S'ho fatto Ok questo non fa niente Non hanno super boss Queste sono i Kenshi Ok Ma è molto hooker Va bene va bene Lo so Non è il migliore Infatti Bareremo Bareremo Gio avanti quadrato Lo ho fatto Indietro avanti A Gio avanti B Ma non voglio farti Sicuramente Alcune cose non puoi farle per la versione del personaggio Cioè questa è davvero una corvo Cioè posso concatenarla con il corvo Su immagino Ah se la potenzi lo starfato Ok Sì però Giorni Quanto diavolo è Cattivo Bareremo Va bene E poi abbiamo Indietro avanti A È giusto Indietro avanti A Quello fa anche un passettino Secondo me Non ce l'ho Indietro avanti A Non è vista Non temo Ok Questo Passo E' anche molto poco Oserei dire Non ci credo Anche parato Ho visto che C'ho la spada Tipo unicorno Niente Non vedo l'ora di essere accecato E di prendere sento Perché questa versione sua Questa versione sua Qualcosa che gli manca Chiaro che non conosco quasi nessuna delle sue stringhe Quindi stai con me Siamo già all'angolo Ti porto all'angolo in quattro secondi E buona fortuna Perché non posso fare le combo con lui? Questo non capisco con Johnny Oh Come on Guardalo lui dei suoi overhead load Ero contentissimo di vedere che esce Cioè lui sparaccino incredibile Ma ok Ok Ora il gioco si fa duro Va bene Va bene Abbiamo trovato Il meterless launcher Ora il gioco ha senso Se me lo spregassimo Ma già ragione Ok Ok Allora Stag No No blinda Ok No Però Però ci sto entrando Scusate il poco commento Ma sono lì Concentrato I don't think so Action Come on baraka Voglio il fatto che non possa Per capinare Johnny Cage Nelle come No Però l'angolo non mi ci mette Ok Adoro Gojuak Ok Ok Tomo Se la posso fare a fare qualcosa di carino E qua dobbiamo vincere E non essere stylish Però non mi faccio Non vogliono essere Anche perché ho un accordo in mente Ma non sto riuscendo a farlo mai Non pensare neanche Guardalo come ho fatto Non ci pensare neanche Oh Belinda Ma guarda Il suo calcio è più lungo E la mia spada Eeeh Tua sorella Guarda Ogni Ogni cosa È futile E' il suo calcio è più lungo Oh Dio mio Dai No Come fai a dire che sono un minion adesso Con più sui mie grandi abilità Non ci pensare neanche Stupido Ok quasi Ho quasi fatto la combo che volevo Sto dicendo che probabilmente non si può fare Sto dicendo che ho trovato la migliore Ora però Ho bisogno di una barra Però per farla Vai via Vai via Vai via Vai via Vai via Vai via Eeeh Eh Bisogna giocare Della distanza Contro Ho appena detto questo Ho appena detto questo E lui ha fatto una cosa Che Della distanza Si è portato Subito vicino No Sbagliato Ero anche all'alco Era perfetto Vai via Com'era la nostra Tra lì Giovanti B Ok Oh mi butta Sempre lì Reversa Niente Niente Non ce la posso fare Ettomo Non ho fatto la combo L'ho fatto fuori Sì You got us in this How about getting us out I know what this looks like But we don't work for Shang Tsung If not Why save him Because Liu Kang Earthrealms protector Wants to question him He thinks Shang Tsung May be a threat To both our realms I'm Kenshi Takahashi Our kind do not shake hands I'm sorry I didn't mean to offend Don't you know what we are No We don't We are victims of Tarkat The disease is not easily gotten But you can't risk more close exposure It disfigures Then debilitates In time It will turn us all into bloodthirsty monsters Death Is our only release So you weren't always like this I was once a rich merchant But when I became ill I was banished Now I run this colony I am Baraka Hello there What does Shang Tsung want with your bone marrow, Baraka? I don't know But he comes here each month to harvest it Release us and we'll capture Shang Tsung And we'll find out why he's been coming here I promise Let them go Thank you We won't let you down Bene Damn This was guiding us to Shang Tsung Now we can't find him This laboratory is near I'll take you Beautiful But you can't Cioè Fai le bussoline E poi di vetro Me ne fai No I've never been inside Stay here We'll check it out Comunque adoro il design di Baraka Questo gioco Proprio Un vestito Bellissimo Cosa sta facendo E lì che Serum is exactly what we need Its effects will be immediate and long lasting How can you be sure? Because it is brewed from freshly extracted Tarkatan marrow It couldn't be more potent It is time He is infecting Melina with Tarkat And he's got two of Sindel's top dogs in on it No wonder Liu Kang is worried about this guy We need to stop him Save a distressed damsel Sure thing Dove dobbiamo farci vedere Però sono i cattivi You bitch Excuse me You know The movie Tiny girl Ginormous alien Pepe No? Seriously? Earthrealmers How did they find it? They've already seen too much No? Dovendamente dobbiamo combatterli tutti e tre No? Cominciando da Shang Tsung Oh yes Ok Buy it for me Liu Kang sent you, didn't he? Sent you to learn our secrets He sent us here for Shang Tsung But it looks like he's just part of the problem Yes Action Action Fa ridere che usando Johnny Cage Come si dice L'announcer di Johnny Cage Ed essendo Johnny Cage con noi nella storia adesso Ah c'è Melina là dietro L'announcer di Johnny Cage con noi nella storia Un posturbita No Sto usando Tanya? No No Non mi ricordo Sto Bastante Tiene La Stando Le paura Non mi allontanerai abbastanza Inferenza di Barakart Con lui devo andargli vicino Fatto Li ha cancellati Sorbule Gli piace attivare i portali Poi Non li usa Ah wait Ok È più veloce da prevista sta mossa Quella è la combo finish che cerco No Oh sì invece A noi invece no Ok Uff Scambio di colpi Terribile Terribile Kenshi Johnny E con Glau Vertaken Preso La spaitania Zunga Diquidly Conflicted Exposed 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 Exegguted What Ce l'hanno fucilato Fatto Cioè action Oh senti Tanya È vero Però io non uso Mai Perché non uso Renit Inoltre Non ho fatto Non ho venito No 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 Volevo fare una cosa bellissima No No Sempre Un cacchio di pelo Eccolo No Tomo No Quasimodo 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 Andiamo Quando lui salva Devo Aproffittarle Porca miseria Mi tiene lontano Maledetto E andiamo Tomo Guarda Concordo Adesso Getting started Oh be linda Voi non lo sapete Ma ho usato Due volte Il cane di Johnny Cage E Popscreen Che ho stato mal Mi è nato male Oh eh Questa è la bella Devo fare la Perché E' noioso Karma Karma Calma La carpa canta Tomo Vuoi rage Anch'io rage Wow E sai cos'è questo? Questo? E' un overhead E se lo potenzio Diventa un overhead E poi imparare Ancora di più Tomo E sai cos'è questo? Questo E' un uppercut E questo è un calcio E questa è una presa In attrattica Non ecco No meglio Perché Oh oh No 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 Eccola Ah eh Una comboina Non è che Cusessi tanto Poi c'è quella Più complessa Che è quella lì Se potenzio Il signorino E' un parato basso Ma poi non ce l'ha alzato Poi bella Poi bella Fui down azione Non avevo abbastanza parra Non c'è Non c'è Da lì C'è I Monks non mi trainarono per questo Lo so, lo so La bolla confonde un sacco perché non vedi bene l'avversario I suoi Overhead Lows Li amo perché non mi sta facendo Renda usare Oh No, non mi farlo ne più Johnny, è tutto tuo Uff Oh 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 Tu con questa battaglia L'abbiamo a prendere dentro Oh Tu traspassi in Outworld Interferi sui matteri imperiali E' tu, non io, che sei il schemer Oh Well I don't know Si, non mi aspettavo che Tania forse Ma secondo me c'è un grande misunderstanding Ha fatto di tante parti Spero che parli anche e che non dica soltanto fra di parte Tania 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 Che maledetta Che maledetta BAMBAM Ok 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 Ok, mi è piaciuto tantissimo, però non dovresti farla a 4 ore, io non voglio morire. Johnny! No, basta, voglio vivere, basta, no! Ok. Quando sei attaccato, l'Empressa decidirà il tuo fate. Maledetta. Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Ok, mai più fare prese con lei, porca di te. Non ci credo. Cos'era quella? Cosa mi sto perdendo che ho fatto adesso a caso? Eh, ero in combo. Fai mi uccide, ragazzi. Bene, ma ho fatto un salto verso l'alto. Ero un altro meterle slanger. Ah... in aria guardiamo per favore costo un bar cancevo tutta ceppa va bene allora diavolo è stato credo che sia iniziato con un y però non è questo b y x bello però non è quello che ho chiesto triangolo quadrato che ho chiesto fatto saltare in aria non è questo e ovviamente non è questo che diavolo avanti triangolo avanti triangolo concordo perché non sto capendo come come ho fatto a saltare su come ho fatto avanti a y però non posso farci molto è più una cosa per il cameo da incatenare ma vabbè mi chiedo cosa stai facendo che ho provato a ria viedermi ricoveri Maledetta, non metti la parola. Perché arriva Johnny Cage. E poi la frego. Lei non si aspetta che io sappia fare queste cose. E poi no, perché... E poi questo. E ancora questo. E poi... Ma dai! Mi dimentico che avanti triangolo triangolo. Esatto, questo devo fare. Ok, scusate. Your blood is over. Your blood is over. Enfitta di un corso. Detto. Grande Miserable Standing. Ovviamente lui... Lui sì. Lui sta cercando di uccidere. Princess, sei ok? Di farla amare. Però gli altri non credono di farla amare a Mirina. È finito? Sì, sei sicuro. Abbiamo stoppito Shang Tsung. Stoppito? Perché? Attenzione! That's a Ring. Come dicevo? Prendiamola di primaverata. Nernza. Adesso. no a keep preoccupied non not no don we we pages for this or are we winging it whatever we do we can't hurt her her i'm worried about us princess we can help you Un po' specifica come richiesta segnalata La musica qui è un po' irudente rispetto a tutte le altre di tutti gli altri stage Tutte le altre di tutti gli altri stage sono incredibili Questo è un po' soft Fammi sentire la grinta del momento, la paura del dia La prima volta che mi domina Anche l'invasion mode che ho un po' giochicchiato Non l'ho mai combattuta Sarà perché in modalità storia Perché l'invasion mode ti fa giocare su tutte le cose che ha senso giocare Perché lei non mi fa strano? Mia Sarebbe comunque curioso di provare questa m***a di morto di combattimento Ecco l'ho messo Nooo Crazed with bloodlust Milling the fat hungary on face She's fresh When she's washed down she's bigger than thief with this bomb Vabbè, però gli altri puoi salvare una La terra È arrivato che è esegu Che ho fatto vedere così Ma non C'è più io continuo a non capire come è fatto a salire verso giù indietro a non c'è scritto da nessuna parte giù indietro a non c'è scritto da nessuna parte giù indietro a non è che giù indietro a non ho sbagliato perché secondo me c'è qualche problemino in sto gioco rising karma secondo me questo è giù indietro a e hanno scritto indietro avanti a perché indietro avanti a non esiste mi fa avanti a quando faccio indietro avanti a raga è questo cancel on heat into jump ci siamo in aria raga dai hanno sbagliato ci sono anche dei bug che non capisco che la gente non ne parla mi fa strano c'è rain indietro avanti fa l'acqua da sotto no indietro avanti a se non ricordo male comunque diciamo che indietro avanti a scusa giù avanti a diciamo che giovanti a quindi giovanti a pupu pugno pugno giovanti a pupu pugno 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 lanciare in aria lui scende pugno pugno giovanti a proiettile come scusa giovanti a proiettile come non lo rifaccio fuori della combo giovanti a pupu e non so che pupu io volevo fare pupu però non funziona non so perché non so perché lo stesso tasto avevo detto che lo schiaccio per sbaglio no no è così cioè uso rain uso la mossa super mossa di rain se la faccio fuori della combo fa quello che fa se la faccio dentro fa un'altra super mossa che fai con un altro tasto cioè giù in quadrato tipo giù indietro x che diavolo scuso che fanno anche sbagliato a scrivere sta roba il fatto che non sia stata già aggiustata dopo dieci giorni che è uscito il gioco mi sembra una follia non ho già fatto tornei cose cioè non è possibile che sta roba sia stata lasciata lì io non capisco devo sprecare smettere di sprecare sta roba smettere di scuola andiamo a giocare normale smettere di scuola mi sono distratto a usare giù indietro da un po' di volte raffinata la signora Medina oh mamma mia devo stare tutto il tempo a parare ed anche giusto non so se vuoi essere il cobert ma... tu... che vuoi fare il combo breaker? porca loca se mica tu sei scemo per provovarlo l'ho svegliato ovviamente sembra che non abbia over end la signora Medina sembra abbastanza facile punirla perchè ok ecco la over end io non capisco ho fatto dei combo breaker con il cameo a mezza parla una bella si no si no si no lisci io so che è molto ripetitivo scusate voglio andarmene via la stessa istruzione con Mirina si può perdere basso no peccato yes oh no che doveva essere cercato ma quello del senso va bene non fate al blu va bene quello che volete mi fa vedere quella cosa vedere la mia storia è un po' più letale L'impresa è pronto a rispondire a questo incursione. L'impresa è pronto. E' quello che penso Perché è azzurro? E perché è brutto? Lui è il sorso di verde Interessante Lui è il sorso di non arrivare, Suna Per difendere la sua sorella Mi piacere che ha ricevuto il suo tratamento La princesa è sicura Ma il risultato di Earthrealm resta Sì Quan Chi Quando ti anticipi che ci saranno? Soon Il momento di oggi Sì in le finali quattro di la propria Sì Quindi io sono certo Dobbiamo agire ora, princesa Io prenderò i vostri risultati Per l'impresa È per lei di decidere Rain, Tanya Mi assiste Quan Chi Quan Chi è il sorcero che sa tutto Oh per convincere la empressa del vero di quante chiesa profesi conflicte con il mondo è ora inevitabile non necessariamente la empressa non è mai stato sicuramente per conflicte se si resiste, si diventata, si diventata il mondo per il nostro percorso un leader un leader come tu, potremmo non necessita se il mio regno necessario di me matare i mondiali ma non possono riportare a Lu Kang i loro dati ii rinchi di rinchi due bambini, una stone ii rinchi 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 cronica ok questo conferma questo conferma secondo me è finito il capitolo perfetto perfetto qualcosa mi dice che reptile considerando i trailer comunque non vedo l'ora che gne 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 questa versione senza sento senza le cose ovviamente mi ha convinto il giusto è un po' po' king around quando in realtà l'ho sempre visto molto smooth quindi voglio impararlo bene non è ma non è tra questo il contesto purtroppo guan chi ha appena rivelato il fatto che pure lui era stato messo in disparte da yu kang come aveva fatto con shen sung e shi dice quindi direi cronica ha aiutato guan chi tanto quanto ha aiutato shen sung in realtà quindi si si ricollega alla trama che stavo immaginando io cioè cronica ha quindi indicato a shen sung scusate a guan chi il futuro dei reami eccetera perché no giusto ha semplicemente inventato tutto perché lei ha detto guan chi ha appena detto lei ha bisogno che i reami combattano non sappiamo bene perché però qual è il vero piano di cronica? cioè avere controllo della clessidra ma o nel senso ci sono delle domande interessanti si stanno collegando dei fili rossi riviano dal suo momento giusto al posto giusto sta tutto andando storto per i nostri eroi e poi io non mi lamento di questa trama gente io sono intrigato sto cercando di capire chi vuole cose perché e adoro adoro shen sung e gli dice ma Liu Kang Liu Kang mi vuole rapirmi? figo conto qualcosa allora è bello è bello questo dirà del percorso che ha fatto qua che dire gente nel prossimo 99 600 faremo reptile e non vedo l'ora non vedo l'ora alla prossima perché non vedo l'ora è bello mi vuole ma